Grazie a tutti! Sì, è pronto, è l'avance! Sì, è pronto, si arriva le botte! Alla, è l'angu. Ho, ho, ho. Ho, ho. Ho, ho. Ah, ho, ho. Ah, ho. Ho, ho, ho. a un altro un altro pirata è rivenuto ritmo, ritmo, ritmo ritmo, ritmo ritmo, ritmo, ritmo ritmo, 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 ritmo Ormai il mondo è extra pieno, ha delle dimensioni di volchettura veramente eccezionali. Una cosa che passa in immaginazione. Arrivi l'imbarcazione dei pirati, molta animazione sulla costa, sulla bordo banchina. Hanno tutti voglia di vedere questo grande sbarco e questa sera dobbiamo dire che è stato anche organizzato bene perché ci sarà una vera battaglia attraverso la quale vedremo una volta come poteva difendersi un paese da terra e con i pirati che giungevano dal mare. Per depredare e poi sanguinosamente lasciare dei segni terribili. E laggiù c'è una sintomatica città, il paese insomma che poi sarà dato alle fiamme. Insomma vedremo nel proseguo di questo sbarco quello che accadrà in questo specchio aqueo. Piccarsi sulle torri è pericoloso, grazie. 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 Anche da qualsiasi forma di civiltà ha apportato la legge, l'ordine. In forze abbiamo conquistato questa locaforte, uomini valorosi di chi in terra sono morti. Ma noi, con sprezzo e pericolo e con grande coraggio, qui siamo arrivati e qui resteremo! E su un pirata potrà ricacciarci in mano. Voi farete parte delle colonie delle Indie. Ogni uomo vieta fra i 16 e i 26 anni verrà arruolato a forza nella Reale Marina per otto anni. Ogni abitante di Cadimare verserà spontaneamente o sotto forza due scudi ad abitante per sfamare le truppe. Una cortina di fumo c'è inalzata di fronte a noi. Vedo un magliamento per le nostre truppe. Incomodi giacigli per poter riposare. Inoltre, se qualche gentile pulzella volesse imparare le buone maniere, noi siamo qui. Ritmo, ritmo, ritmo! E tu chi sei? Io sono il pomodoro per canzi! Il pomodoro per la banana! E' il pomodoro! Non possiamo sostenere questo affronto! Allora, tu sei un uomo che vuole morir? Gli spari degli inglesi da terra! E' il pomodoro per le nostre truppe! E' il pomodoro per le nostre truppi! Arrestate la fine, che si meritano, portate questo livello! Fermatelo qua, uomini, ricaricate! In piedi, e muori, un uomo di coraggio! Fermoli! Navaglia! Uomini! Questi sono i vostri pirati! Il Quinto Remo continua a fare i giri con i ragazzi che vogliono andare a imitare i pirati su questa imbarcazione! Degli abitanti di Cadimare! Non ci impressionano! Noi qui, padronezzeremo! Conquisteremo! Disparte un altro viaggio! Per quello che avete usato a fare! Uomini! Eccoli! Ed eccoli all'arrivo! Un attimo di attenzione, i genitori di mattina Lidia e Adriano sono desiderati sulla piazza Lidia è ingaggiata, i pirati stanno arrivando per conquistare il terreno Uomini d'Inghilterra, pronti a far fuoco su questo pirata Vediamo di che colore è il suo sangue Non c'è rispetto, aspettiamo lo sbarco dei pirati allora Vediamo se qualcuno avrà coraggio di contrastarci Viva l'Inghilterra, è per l'Inghilterra Ritmo, ritmo, ritmo Ritmo, ritmo, ritmo Ritmo, 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 ritmo Ritmo, ritmo, ritmo Ritmo, 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 ritmo Ritmo, 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 ritmo Ritmo, 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 ritmo Una battaglia fra gli inglesi e i pirati in questo momento in calza, i pirati stanno attaccando dalla parte destra, cercano l'avvrodo! La battaglia fra gli inglesi e i pirati stanno attaccando la battaglia fra gli inglesi e i pirati stanno attaccando la battaglia fra gli inglesi e i pirati stanno attaccando la battaglia fra gli inglesi e i pirati stanno attaccando la battaglia fra gli inglesi e i pirati stanno attaccando la battaglia fra gli inglesi e i pirati stanno attaccando la battaglia fra gli inglesi e i pirati stanno attaccando Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.